Giochi senza frontiera da sta mappa, che figata, che cazzo di figata Animali, animali, benvenuti in questo nuovo video Oggi nuovo appuntamento su GTA e vi invito a tutti a guardare soprattutto le ultime due gare Perché fanno veramente morire dalle risate Godetevi il video e buona visione E bella tutti ragazzi e ragazze, sono Anime e bentornati in questo minimo video Eccoci qua col nuovo appuntamento settimanale di GTA e gruppo Oggi siamo con Gabi Squared Sono carichissimo Bomber Con J-Rom7 Bella ragazzi E con CiccioGamer85 Perché è cambiato Ho già cambiato Ragazzi oggi entro in Gabbo Mod e via Ecco, ok, nessuno parlerà, sarà un video muto Tra Gabbo e Ciccio se si mette anche due cose prendiamo io testa Oggi sarà un dual commentary 35.000 mi piace, compro un climatizzatore Pronti ad assaporare la mia... Gabbo sulle scale, sulle scale Io già vedo là in cima delle cose che non voglio vedere, ve lo dico No, non è il massimo Sono parito malissimo, l'unico senza turbo Ronna io da cappotto male se ne te togli Oddio Allora io prego Nooo, è un ragazzo Mi sei addobbato tutti Raga ma manco l'albero di Natale che sei addobbato Intanto io rido rido che siamo qua da... Oddio cosa devo... Nooo Nooooo Buon viaggio Ecco, se mi sai... Oh madonnina mia Che culo Attenzione raga, vedo un Gabbo incattivito là dietro eh Ma cattivissimo raga sono dietro Non vedo Ciccio, dov'è Ciccio che dovevi togli fuori? Eh gira, di gira di brutta bandina No guardate che io sono con l'arancione raga Allora, allora non lo vedo No no, allora Ciccio è cattivo Oddio raga Vai Ciccio! C'è una doppia spirale Madonna Cosa? Adesso voglio vedere Eh? Non lo fai verticale sta roba Ma cosa? No raga cos'è sta roba? No raga non mi piace Oh oh No sono scivolato malissimo Aia Aia Aiuto Aia Finisci, finisci di prego Nooo L'ho presa No non ci credo No! No non l'ho preso Io non l'ho preso Non l'ho preso Vaffanculo sti giostrai di merda Non l'ho presa perchè è alla mamma puttana Che ciccio è suicidato Faccio per voi raga Vai Non l'ho preso Non l'ho preso L'ho preso di nuovo Preso puttana ladra puttana Ecco stranamente io riesco ad arrivare sempre fino in fondo e poi chioppo Ma no fai macchina Si l'ho presa Macchina No 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 Nooo Ok Ok Sono finito nel porto E la macchina è anche bianca sembra una supposta Eh ma guarda che la macchina può anche esplodere sai Ah c'è ancora qua Sasha Si Che bello Gabbo vai veloce vai veloce Gabbo Sto andando veloce Uè bella gente Vai Ah non devo risettare Godo Uè Uè Oddio ce la faccio Ce la faccio Veblevati nooo Nooo Ma il bello è che non l'ho mai fatto No ti prego vai Ti prego prego No infatti non l'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso anch'io No vabbè In questa persona è qualcosa che ti fa veramente sbocca Ecco Anche Sete spiossi entrambi Telefono Ma io sono Sono spawnato fuori dalla cosa Teo mi ha fatto Mi fa spawnare fuori Questa gara è bugatissima comunque Io l'ho fatto a primo colpo Oh madonna mia Madonna che manovra ragazzi No Mannaggia il cartello Mannaggia il cartello Mannaggia il cartello UR46 Ciao Gabbo No Che cosa Sascha non è arrivato signori però Eh no Non sono arrivato Ma sei arrivato ma al primo giro Vabbè questa parte verrà tagliata sì Giusto Tutta la prima gara taglierai Non c'è mai stata Esattamente Voi avrete dei punti accreditati a caso Perché è GTA che li ha dati Mando il messaggio alla Rockstar Mi faccio bannare Mio zio è carabiniere Io sto giocando a GTA 6 Ma l'ho lasciato A tocchi da mio zio Lo sapete raga che una volta Io da piccolino con mio amico Tipo ho litigato tantissimo Perché lui diceva che Ehm C'era la PlayStation 21 in Giappone E gli dicevo Ma no ma è impossibile No To' giuro Gabriel Ci sta la PlayStation 21 È diventato quelle 19 edizioni dopo Ci siamo presi a puni raga Ma è sempre giusto Comunque mi può consolare il fatto che C'era il doppio RP E anche se ho preso il doppio dollaro Almeno il doppio RP l'ho preso Comunque stai migliorando nella scelta delle gare Davvero? Grazie Ma che è la sirenetta 2 qua A 2% impossible underworld Ma che bel culo che ti faccia Finca bello proprio quello lardoso da twerk Passata MotoGP a queste qua raga fanno E' fatta stranissimo Ah 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 Allora Un cazzo di cazzo di cazzo Ah 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 BASTA! Però nonna, ho andato al citofono o è entrato in Gabomod? No, no, sono... E' in Gabomod, è in Gabomod No! WOOOOO! Prendi la Crissusco Ma... Ma perché non me la prendi? Sto tapponando Allora, mi annoterò sul taccuino di non giocare più con voi No, vabbè, raga, non ci credo Mi sono venuti a suonare i fan a casa, ma vi rendete conto? No! No! Non ci posso credere Oh, oh! Ma che cazzo? Ok In fondo al maaaar Oh, cazzo, ma appare la mappa da un momento all'altro, cioè non te ne accorgi Entra in questa cazzo di moto! Si fa i bagni termali sta bagaccia Io non riesco a farli questi salti, sono... C'ho caldo! Io direi, ragazzi, che... Visto che siamo sotto Natale, aspetterei l'ultimo Questa è la regola Siamo comunque sotto Natale, anche se fa sei mesi Quindi nessuno... Vabbè, nessuno ascolta le mie preghiere, evviva Dov'è qua il coso, raga? Oddio, devo andare entro la montagna Non ti riuscito! Eh, ma prima ce l'ho fatta, ma son caduto in giro stesso Ah, devo spawnare Ma cos... com'è che si fa? Ah, bisogna andare... Devi spawnarci Ma che cazzo? Raga, ma che siamo andati ad Atlantide? Sono uguali, stiamo facendo la sincron Oh, 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 oh L'ho fatto, raga? Mamma mia! Oh, ma raga, ma qua sparisce tutto Ma che cazzo? Si, infatti, è bugatissima È bugatissima sta... Ma ci sono i subacquei sott'acqua IEEE Ah! L'ho preso! Non l'ho preso, raga! Mi sto consumando il pollice a premere il triangolo Ma che c'è il traguardo di davanti? Ma è impossibile! Vabbè, grazie Ron per la partecipazione al video Non l'ho mai visto, raga, raga Raga, raga, forse l'ho fatto, sai, bella raga Giorno di paga! L'ho fatta! Fermi tutti! Ecco il cazzo, bro Ma l'equilibrista tuo non lo faceva! Guarda che è arrivato anche Ciccio È arrivato anche Ciccio È arrivato primo No, non siamo arrivati Siamo davanti al traguardo AIA Dai, dai, dai Ok Ci sono Ci sono E sta a vedere raga La rivoluzione Ci arriva prima Sasha Sta a vedere eh Sono dentro Sono dentro a piedi Ripendi la moto No! No! Ma porca È riuscito anche a bugare con la sua moto parcheggiata No, non è che sono riuscito Mi fate arrivare terzo, almeno una gara Due non arrivati, vai A meno che non facciano un gara Sì! Sali! No! Porca puttana Non è possibile Raga, questo doveva essere una gara divertente Allora, visto che io ho due non arrivati Ho il bonus Gabbone a mezzo di bonus Sì, io a mezzo bonus, dai Noi non possiamo essere colpiti Ma possiamo colpire Voi vi dovete colpire Regola È perché l'hanno aggiunte nell'ultime E' un punch GAMBO PREMI CONTINUO NO, 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 NO Quali sono le armi? Iniziamo con la tannica Ah Cazzo Cosa? BOOM Raga, raga ma sto dando fu... Ma cosa cazzo? Raga, ma cazzo Sto... 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 È scattata È scattata Vieni qua, a me devi 5 euro Aia, stai un cazzo, hai capito? Cosa? Ci siamo mazzuolati Sì, ma le tanniche che cazzo servono? Vai, boom Un pugno Raga, tutti contro Ron PEM! 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 Vai, che... Mike dei Bushwaka Aiuto! BELLA RIVATERE Sì, il bel e guè Ehi, ma la gente Oh, ma non muore nessuno raga, ma come che cazzo? Ma come cazzo? Ma che cazzo? Ma cazzo.. Adesso io so come fare Adesso so come fare Oh oh Ah no... Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! piglia sto cazzo, prendi il suo pugno l'ho ucciso, l'ho ucciso si l'ho ucciso anche capo ma basta anima fai schifo edru carrello no ragazzo io in mezzo non si picchiano le donne beccatevi sta saccagnata merde mi sto sentendo male mi sto sentendo male fuori dal ring pure la razza aiaia ma cosa ridammi i sordi infame e ridammeli t'ho visto Mike de Bouchoaca ma hai rubato il portavoglio no ma hai rubato la kill assordo hai capito fuori tre ma non bastano boom raga mi è venuta anche la nocch mi sono anche spaccato la nocch in real life alla fine è la donna quella che va il cazzo più duro ragazzi non dobbiamo far arrivare Ron io vorrei almeno arrivare terzo però vabbè ma mia se questa te posso spararti giro tanto di più beh 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 si impegna raga oh cazzo ecco mi avete già ma sono io hai ucciso me che bello inizia a legare e partire già ultimo che valentino rosso in the game cosa dobbiamo fare qua? c'è una rampa? vabbè oddio oddio che no non mi puoi fare così la stronza perchè non sento nessuno cadere è caduto oh porca comunque io farei un piccolo fair play e mi fermerei è vero fermiii aspettiamoci tutti qua non fatele merde eh qua sparano non so di cosa state parlando oddio una ha preso un palo aiuto no no ho preso una siepe porca ahia che è questo cizzo? ma cos'è? com'è qua? com'è qua? aiuto! no ah raga è triathlon cioè? capo uccidiron no 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 aia uccidiron scusa scusa il gabone ma cosa? ma questa è la gara più bella che abbia mai fatto ma cos'è sta roba? chi è che mi ammazza? no figlio di puttana lo sapevo scattava il figlio di puttana mi sa che non è qui non è qui ma no ron lo stavo sparando al primo cazzo fai ah ron per carità non ti sto sparando perchè sei terzo no giuro giuro fermi io prendo un bazzucchio a ciccio gamer ma dov'è che stai? non ti vedo ci dov'è che sei? a me merda no 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 non me lo da ma fa culo ma sono arrivato ah ma non era davanti infatti non lo vedevo mi ha messo già dovuto a cecchinare tutti esatto ti giuro che non lo vedevo infatti non capivo ma dov'è che sta sparando? ho avuto da correre a destra a sinistra senza un perchè ma no no ma no raga giuro pasto un po' troppo caso giochi senza frontiere da sta mappa che figata che cazzo di figata no raga cioè è troppo divertente dovremmo fare un altro che strogo corse giochi senza frontiere corse sì ma qua il veicolo c'entrava poco comunque eh mua 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 nooo oh Deium attenzione vabbè ho concluso in terza oh con due non arrivati arriva nel terzo è stata un'impresa eh wow che me ne ho voto a meso prima comunque animale animale se volete un altro video di GTA settimana prossima suggeriamo i 35.000 mi piace io ringrazio tutti i partecipanti sicuramente la prossima volta cercheremo un'altra gara così perchè è troppo divertente grazie a tutti per la visione noi ci sappiamo domani con un nuovo video stay angry stay animals stay animals wooo no 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 so